Inizio di settimana brusco per il sindaco di Vibo Valencia che questa mattina presto, recandosi in comune, ha trovato ad attenderla alla Guardia di Finanza, con in mano un decreto firmato dal sostituto procuratore antimafia di Catanzaro Antonio De Bernardo. Per tutta la mattinata i finanzieri, soprattutto in Borghese, hanno perquisito i vari uffici di Palazzo Luigi Razza. Da quanto si apprende, nel mirino della DDA sarebbero finiti una serie di sottori, tra i quali quello dei lavori pubblici e la SUAP. Mi è stato notificato un decreto di acquisizione di una serie di atti e una serie di documenti che riguardano numerosi procedimenti in essere presso il comune e che sono per la maggior parte, anzitutto direi, relativi alla passata amministrazione. Alle passate amministrazioni. Che settori sono interessati? Ma moltissimi settori, l'ufficio tecnico, l'ufficio contenzioso, stanno acquisendo carte nei vari uffici di interesse. Ovviamente io sono stata a loro disposizione, anche i dirigenti si sono messi a disposizione del colonnello, in generale della Guardia di Finanza. Le carte che ci sono sono qui, sono a loro disposizione, faranno le copie e vedremo. Lei è tranquilla comunque per quanto riguarda il suo scorcio di amministrazione? Sì, noi ci siamo insediati da pochissimo tempo, veramente si possono contare i giorni, proprio l'altro giorno abbiamo fatto i primi 100 giorni, quindi è evidente che immagino questa attività riguarda fascicoli che si sono formati nel corso del tempo, quindi non escludo. Quello che più negativamente sta influendo sul giudizio a proposito del blitz di ieri mattina della Guardia di Finanza nel municipio di Vipo Valencia è il particolare che c'è la direzione distruttuale antimafia di Catanzaro dietro questa operazione. Sequestrati decine di faldoni, fascicoli di svariati settori, tutti quelli in capo ai dirigenti attualmente in carica. La tensione della fiamme gialla è stata incentrata sui faldoni che riguardano gli appalti, ma anche gli affidamenti diretti e le svariate pratiche nei settori cruciali dell'ente. Numerose le pratiche finite sotto la lente della Guardia di Finanza, dall'appalto per l'illuminazione pubblica alla gestione degli sbarchi dei migranti che si sono susseguiti negli anni scorsi, fino all'interazione con aziende finite nel mirino della distruttuale antimafia di Catanzaro. A proposito delle installazioni abusive poi, non saranno state certamente trascurate le denunce del commissario straordinario Giuseppe Guetta, che aveva disposto, a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato, l'abbattimento di alcuni impianti, operazione poi sospesa e mandata momentaneamente in archivio. Lungo l'elenco delle manifestazioni finite sotto la lente della finanza, dai mercatini di Natale a Vibo va in fiera, passando per le pratiche dei rifiuti fino alle strisce blu rispetto alle quelli più volte il Comune è stato interpellato dalla procura ordinaria di Vibo Valencia. L'accelerazione impressa dall'antimafia di Catanzaro è dettata dalla necessità di fare luce su anni di gestione tutta da chiarire in cui la criminalità organizzata in collaborazione con la cosiddetta zona grigia potrebbe avere inciso non poco sullo sfascio del Palazzo Cittadino alle soglie del secondo disesto finanziario.